salve a tutti o nostri affezionatissimi e rari amici e benvenuti a questa nuova puntata di segrezzo numero 83 e la parola di oggi è l'erciume che è una puntata che è quasi la sporcizia parte 2 vi ricordate nella prima stagione abbiamo già parlato di questo argomento e c'era la parola sporcizia allora abbiamo fatto una parola che ricordasse come seconda parte che è l'erciume quindi vai prego ok uomo di 19 anni che chiamiamo l'erci come quello della famiglia adams da quando non mi viene più la donna delle pulizie la mia camera è di un l'erciume imponderabile ho appena visto una sorta di insetto albino sgattaiolare fuori dal mio letto sarà meglio che passi l'aspirapolvere prima che gli scaravaggi passino il rubicone che cos'è il rubicone? non lo so forse è il dio coglione ehi siri che cos'è il rubicone? no non ci sono commenti? cosa vuoi commentare? non c'è un mano forse purtroppo la mia sfiga è che potrebbe non essere un fake eh no perché conosco gente talmente zozza ad avere gli insetti nel resto che schifo io che sono insettofobico l'erciume vabbè andiamo avanti che ce ne sono altri due quindi ce ne sono altri due e basta no ce ne sono uno quello di sotto quello ce ne basta quello di sopra è stupido allora Fenster 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 di 25 anni dice lavoro come lavapiatti in uno dei migliori ristoranti di Italia in Toscana e mi faccio le migliori risate quando sento la gente accusare il McDonald di essere sporco il McDonald il McDonald essendo una catena di fast food è sottoposto a rigorosissimi controlli controlli e la pulizia l'è eccezionale ci ho lavorato eccezionale invece nel mio ristorante a 5 stelle non vi potete immaginare il l'erciume che c'è nelle cucine è un giorno fortunato quello in cui non mi... così parlando così parlando sembri benigni è un giorno fortunato quello in cui non vediamo più insetti di ogni genere girarsi sui pavimenti che schifo mi auguro di non venire mai da te o grullo secondo me te tu te lo sei inventato sto segreto perché non può essere vero comunque vista la mancanza di segreti io direi che Carlo può andare da entrambi prescindere o Carlo vai prima da questo Fester e poi accontenta anche e accontenta poi anche Lurch dai quindi niente ragazzi purtroppo sta puntata è curtissima curtissima perché ha due segreti il l'erciume e non hanno neanche commenti sì nessuno può commentare sperando che siano fake anche se il primo di Lurch potrebbe non essere un fake beh sì e quindi quindi che possiamo dire se no palluce non possiamo dire altro che questa non è una missione difficile ma missione impossibile lavatevi di più anche questo insegnamento di vita e lavate di più anche i pigmenti e cambiati i letti magari ogni tanto pulite tutto insomma fate le pulizie di fondo di fondo e non di Pasqua solo di fondo ciao ciao ciao